buongiorno cari amici eccoci nello spazio dedicato alla lettura e riflessione dei messaggi di mediugori nella pagina il tempo di maria oggi cari amici rifletteremo insieme sul messaggio del 30 ottobre 1981 ventitresimo messaggio e cosa dice la madonna in polonia tra breve ci saranno gravi conflitti ma alla fine giusti prebarranno il popolo russo e il popolo nel quale dio sarà maggiormente glorificato l'occidente ha incrementato il progresso ma senza dio come se non fosse lui il creatore ecco cari amici riflettiamo insieme allora questo veramente un messaggio un po complicato da comprendere nella corretta dimensione soprattutto perché i media pilotano la comprensione della realtà in maniera distorta e opportunistica e non reale e quindi purtroppo le persone credono alle mezzogne dette dagli organi di stampa e comunicazione perché perché informarsi approfondire costa fatica quindi è più semplice credere che quello che ci viene così proposto su un vassoio già preparato ecco sia la realtà il risultato quindi è che la maggioranza delle persone pensa di sapere mentre in realtà riceve informazioni utili al sistema e ai suoi piani ma non non come attinente alla verità allora riprendendo il messaggio della madonna dall'inizio che dice in polonia tra breve ci saranno gravi conflitti ma i giusti prebarranno in realtà non sappiamo a cosa la madonna si riferiva se si riferiva appunto ad un futuro successivo che non abbiamo ancora vissuto oppure se è qualcosa di già successo cerchiamo quindi di comprendere quali gravi conflitti ci sono stati finora in polonia in realtà dal mio punto di vista non ci sono stati gravi conflitti intesi appunto talmente gravi tali affinché la madonna ne parli in un messaggio se per gravi si intende un conflitto o qualcosa di simile mentre se si intende la lotta tra il bene e il male allora la prospettiva cambia perché se si intende questa lotta allora dobbiamo sapere che purtroppo questo detto da polacchi amici anche in polonia lo spirito del consumismo dell'ateismo e del nichilismo ha fatto il suo corso quindi se la madonna si riferisce questo tipo di conflitto ha un significato mentre se si riferisce e quindi quello che dobbiamo analizzare ai conflitti di natura politica la storia del popolo polacco tra il 13 dicembre 1981 al 22 luglio 1983 quindi successivi al messaggio perché questo messaggio è di ottobre il popolo polacco ha subito la legge marziale nel tentativo di schiacciare l'opposizione politica guidata dal movimento di Solidarnosc altro fatto politico rilevante fu quello che il 31 marzo del 1991 quando venne sciolto il patto di Varsavia che era un concordato tra unione sovietica e quelli che venivano definiti i stati satelliti che permetteva quindi questo patto di difendersi l'un l'altro in caso di aggressione ma questo appunto patto è stato sostituito nel 1992 dall'organizzazione per il trattato della sicurezza collettiva ecco personalmente non penso quindi che la madonna quando ha detto che in polonia tra breve ci saranno gravi conflitti ma alla fine giusti preverranno ecco non penso che la madonna si riferisca a nulla di quanto già avvenuto ma penso piuttosto che si riferisca a qualcosa che appunto dovrà ancora avvenire d'altronde cari amici i tempi di dio non sono i nostri tempi e anche se la madonna ha detto tra breve il suo breve non corrisponde il nostro ma continuiamo in questo messaggio un po' difficile da comprendere e lei ha proseguito dicendo il popolo russo è il popolo nel quale dio sarà maggiormente glorificato ecco soprattutto in questo periodo molti magari potranno contestare queste parole ma ricordiamo sempre che se la madonna le ha dette è sicuramente così non possiamo proprio mettere in dubbio le parole della madonna e se lo spirito del mondo attraverso i media oggi vorrebbe far credere altro di fatto questa detta della madonna è la verità e personalmente credo alla madonna sempre e mi stupisce molto come già dai primi tempi delle apparizioni lei a Mediugorio anticipasse in realtà la storia dei nostri giorni quindi per capire meglio questa frase il popolo russo è il popolo nel quale dio maggiormente verrà glorificato analizzerei però prima la frase finale sempre di questo messaggio quella in cui la madonna dice l'occidente ha incrementato il progresso ma senza dio come se lui non fosse il creatore ecco nel 1981 questa frase specifica aveva un senso relativo su ciò che si percepiva anche se in realtà tutto il processo era già iniziato nel sottobosco diciamo mentre noi poveri popolani non capivamo nulla non avevamo la nostra realtà quotidiana ecco di fatto in realtà oggi possiamo chiaramente vedere come Terra Santa ed Europa stanno cancellando la presenza di Cristo e la Chiesa stia purtroppo vivendo un percorso di scristianizzazione questo tra l'altro non allarmatevi non sono io che lo dico ma sono parole addirittura dell'Omelia di ieri che cadono a fagiolo sull'analisi di questo messaggio quindi l'Omelia queste parole sono state dette da un sacerdote nell'Omelia di ieri alla quale io ho partecipato e se osserviamo i fatti veramente in particolare l'Occidente sta basando tutto il progresso tutto sul progresso vediamo l'intelligenza artificiale gli obblighi sanitari le ideologie che sembrano in realtà in realtà moderne ma sono moderniste ricordo sempre che significa svuotamento delle verità teologali schiacciando l'umanità quindi queste nuove queste appunto nuove ideologie schiacciando l'umanità ed escludendo di fatto Dio quindi come ha detto ripeto ieri sacerdote nell'Omelia durante la messa alla quale ho partecipato alla globalizzazione Dio non interessa questo quindi ripeto detto nell'Omelia di ieri è la situazione in cui il Signore ci chiama a seguirlo e a testimoniarlo e io aggiungo che per fare questo dobbiamo assolutamente pregare e invocare lo Spirito Santo affinché ci illumini e noi possiamo vedere alla luce della realtà di Dio ciò che avviene e visto che siamo tra l'altro nella novena nel pieno della novena dello Spirito Santo ecco questa preghiera è più che mai forte è importante da dire e incredibilmente rimanendo nell'Omelia di ieri il sacerdote ha aggiunto e qui concludo per dire il collegamento con l'analisi di oggi del messaggio che nel Vangelo è scritto che Gesù metteva in guardia i discepoli dicendo loro che se non venivano accolti in un luogo dovevano andare in un'altra parte dovendo quindi rivolgersi ad altri ed è qui secondo me la chiave di lettura per comprendere il messaggio su cui stiamo riflettendo oggi cercando di comprendere come mai la Madonna ha detto il popolo russo è il popolo nel quale Dio sarà maggiormente glorificato ecco secondo me cari amici l'Occidente era il popolo eletto che però ora non è più in grado purtroppo e speriamo che sia solo un passaggio della storia di accogliere suo figlio quindi da qui dal mio punto di vista secondo me sono intervenute le apparizioni di Mediugori ovvero la Madonna sta richiamando l'umanità proprio verso Dio ma non accogliendolo quindi l'Occidente non accogliendo suo figlio e oggi domandiamoci e oggi il popolo russo che maggiormente lo glorifica è come? secondo me non facendosi avvelenare dalle ideologie che di fatto stanno avvelenando il mondo e quali sono? aborto, eutanasia, divorzio, lobby LGBT che di fatto la Russia non sta accogliendo ma anzi sta difendendo l'identità cristiana attraverso la difesa di Dio, Patria e Famiglia cose che l'Occidente ha assolutamente tradito con le droghe, i diritti LGBT la modernità laicista l'individualismo di massa che è anticomunitaria quindi cari amici questi valori Dio, Patria, Famiglia sono i valori universali che malgrado le ideologie moderniste non possono comunque essere sradicate dai cuori dell'uomo degli uomini quindi è per questo che noi che stiamo vivendo purtroppo questa scristianizzazione quindi questa abolizione di questi valori comunque percepiamo tutti la confusione la solitudine lo smarrimento la confusione ecco riflettiamo quindi ancora sulla storia dei nostri giorni insieme l'Occidente quindi che si è scherato con l'Ucraina una dobbiamo saperle queste cose una nazione che aveva mercificato la vita con l'utero in affitto low cost era veramente al mondo la prima in assoluto era oltretutto al primo posto nel mondo per il mercato nero degli organi umani quindi veramente valore della vita a zero assoluto ha purtroppo l'Ucraina anche registrato ufficialmente la chiesa di Satana ecco e sulle icone attuali ha messo sulle proprie icone ha messo la bandiera dell'eroe nazionale delle brigate naziste che ha di fatto combattuto contro polacchi ed ebrei oltretutto il 28 aprile l'Ucraina ha sospeso parzialmente i diritti umani cioè è gravissimo tutto questo che di fatto erano già abbondantemente calpestati tra cui la privazione arbitraria della vita la detenzione e la sparizione forzata la tortura i maltrattamenti le violenze sessuali e appunto tutto legato al conflitto ecco noi occidente ci siamo schierati con un'azione che sta perpetrando tutto questo mentre per chi vuole approfondire ciò che Putin sta dicendo oltre che ad una difesa nazionale e a un'offesa a cui l'occidente sta partecipando Italia compresa dando le armi all'Ucraina quindi partecipando attivamente in questo conflitto negandolo di fatto ma in realtà siamo in pieno conflitto stando dalla parte di chi ha abolito tutto questo che ho appena descritto quindi legato alla nostra tradizione cattolica cristiana Putin in realtà ancora il 9 maggio approfondendo quello che lui dice realmente e non quello che i media dicono ha ancora detto malgrado tutte le provocazioni ricevute da quando è iniziata la guerra in Ucraina a oggi che farà il possibile per non arrivare ad un conflitto globale e se ancora cari amici non siamo arrivati a quello è proprio perché la Russia sta mantenendo veramente salda una posizione comunque di pace ancora la Russia il 9 maggio ha teso una mano all'Europa cercando di collaborare e di trovare un punto di accordo che l'America quindi noi che siamo filoamericani sta sistematicamente negando ecco cari amici nell'analisi di questo messaggio di oggi io non ho voluto assolutamente fare geopolitica ma in questo scenario che di fatto è storia dei nostri giorni riconosco nelle parole della Madonna nel messaggio nello specifico del messaggio del 30 ottobre 1981 la realtà dei giorni nostri ecco cari amici con questa breve riflessione vi auguro una santa giornata se volete potete condividere questo video e uniti nella preghiera e nel cammino vi dico che vi voglio bene ave maria grazie a tutti